Questo caffè si presenta molto bene, è cremoso, come vedete c'è la sua cremetta e adesso andiamo a fare la prova. Questo caffè l'ha fatto mio figlio Angelo, saluta Angelo, ciao, che sta facendo tra l'altro il video. Allora intanto buongiorno a tutti, buon pregio, dopo pranzo ho fatto questo caffè, ragazzi il caffè è una cosa seria, però vedo che questo ragazzo è bravo a fare questo caffè, bravo, buon brand a tutti, buon pomeriggio e buon caffè, un bel caffè di questo.